L'alto funzionario che ha bisogno di una cuoca Cominciamo con uova strapazzate con porcini Ho bisogno di ritrovare il sapore delle cose Un filetto di bue in crosta Ma di cosa staranno parlando? Il manzo di cutansì lo conosci? Torta pasticcera ai frutti di bosco È mio il dessert L'hai fatto di pasto, piatto principale, formaggio Chaturayas 1969 Sapete se è finito il cavolo? Ha mangiato con grande piacere Perfetto Uno squisito patè di foie gras e al diavolo la dietologa Le rendono dura la vita in questo periodo, eh? Anche a me Questo lavoro ha un costo Ed è troppo Non le piaccio per niente? Neanche lei piace a me